Grande maestro, grande preparazione, però anche il Presidente per favore venga un attimo qua, Camilo Corti, come si dice? Un uomo un mito! Poi il Dottor Braccio, scusate anche un applauso per lui, perché ha un cuore molto grande, ringrazio ancora, riprendiamo il Dottor Braccio. Ora ascoltarete il corso di Verona, Sì, molto bello. E c'è una canzone sobre una ragazza, che ha chiesto di essere fidanzata. Ma non ha il right per tre ore ore. E ora ascoltiamo su quello che sta dentro di lui. Sono molto curioso. Con un звон preso per le dici esere un materiale Diana. E' un girl durante quello che si vuole spiegotte. Alla Ц Gegenати è dopo tre ore ore di attesa. quando una donna giovane aspetta il suo fidanzato in cerca di un altro la chiamata che sono coltato per vinc buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc non ho visto la pesta cantata al corpo del manco se te li vai bene la cosa d'unza peste è data che mi parevi nanzoni buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc ogni volta che ti rivedo mi bevendo il frisino lì e non so capirne cosa non dorme non dorme di buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc buttate fuori da che nociata che sono coltato per vinc Grazie.